Siamo con Tony Di Costanzo, il nuovo acquisto dell'Ischia Calcio. Tony, arrivi qui a Ischia, vai via da Forio. Una prima parte di stagione a Forio, non delle migliori? No, di certo abbiamo incontrato difficoltà e questo si vince anche dalla classifica. Purtroppo la cosa non è andata abbastanza bene. Io ho deciso di muovermi perché giustamente oltre all'offerta dell'Ischia era arrivata anche un momento in cui non c'ero più mentalmente. Non potevo dare qualcosa in più al Forio e quindi mi è sembrato giusto andare via. Poi è arrivata un'offerta che secondo me era difficile in questo momento rinunciare a questa offerta e ho accettato tranquillamente. Diciamo che non sei stato l'unico che è andato via da Forio, ma cosa è mancato, almeno nello spogliatoio della squadra? Non sono stato l'unico, sì, però ti posso dire che lo spogliatoio c'era. Noi c'eravamo, forse ci è mancata l'esperienza. Avevamo giocatori esperti come Davide e Pasquale. Non penso che in queste categorie possano bastare solo due giocatori. perché comunque oltre a Coppola che ha 24 anni c'eravamo io e Nicola che abbiamo 23 anni e non penso che noi siamo già così esperti per fare un campionato d'eccellenza, solo noi. Quindi penso che mancava con l'esperienza in più in alcune partite, soprattutto quando si doveva giocare con squadre che erano lo stesso nostro livello. Arrivi a Ischia e la prima partita è già contro il Sant'Antonio Abbate, un big match. Sei pronto già per entrare nei parametri del mister, visto che c'è anche la possibilità che scendi già titolare? Sì, penso che domani sia una partita importante, soprattutto perché si chiude il girone di andata e soprattutto perché siamo a un punto dal pianura. Io sto a disposizione, domani vediamo cosa succede, cosa decide il mister. Però penso di essere pronto per dare una mano a questa squadra.